Roberto, partirei dal gol di domenica, eri il giocatore più atteso per il fatto che eri un ex che non segnavi da un po'. Mi dici dal punto di vista emotivo che sensazioni ti ha dato mettere dentro quel pallone? Durante la settimana mi sono alliato abbastanza bene perché comunque la sentivo un po' questa partita, quindi ero abbastanza atteso, però allo stesso motivo ero abbastanza carico per fare questa prestazione. Sono contento per il gol, come ho detto domenica, però sono più contento per la prestazione della squadra perché, come ho detto, abbiamo dimostrato che la partita con lo Stiamare è stato solamente un passo falso. Perché la sentivi così tanto questa partita? Per il fatto che eri un ex o c'era anche qualcos'altro? No, 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 solamente perché ero un ex giocatore della Pianese e poi perché comunque non segnavo da un bel po' e ci tenevo tantissimo. È un gol quasi in fotocoppia quello che avevi segnato giovedì con la Fiorentina, un gol un po' classico per il tuo repertorio, per le tue caratteristiche. L'amichevole di giovedì e quel gol in qualche modo ti ha ridato un po' di fiducia, ammesso che tu l'avessi un po' persa, oppure no? Ma sì, io l'ho detto l'America che mi sembrava la stessa azione della Fiorentina. Guarda, ti dico la verità, sinceramente forse ci ha dato un po' di carica in più l'amichevole con la Fiorentina, un po' di consapevolezza anche perché comunque abbiamo affrontato la Fiorentina in modo sereno e abbiamo fatto benissimo. Quindi penso che ci ha dato più motivazione. 18 punti nelle prime sei giornate, poi 9 punti nelle successive sette prima della vittoria di domenica. Adesso a mente fredda e dopo una vittoria così importante, che tipo di analisi ti senti di fare? Che cosa era successo alla squadra, Robert? Ma non so, forse un po' di calo di tensione che magari ci può stare, però a ostia mare penso che abbiamo fatto una brutta prestazione, solamente un primo tempo un po' sotto tono, poi al secondo tempo sì abbiamo un po' alzato i ritmi, però non siamo riusciti a fare gol. Però penso che ora adesso ne siamo usciti bene contro la Pianese, una vittoria importante. Adesso, come dice il mister, bisogna fare un filotto importante che secondo me possiamo fare. Hai fatto quattro golli in questo campionato, tutti belli devo dire, soprattutto l'ultimo, ma anche quello di Città di Castello, era stato di pregevole fattura. È un po' la tua caratteristica quella di giocare da esterno a sinistro nel 4-3-3, ti chiedo se questo è il ruolo in cui ti senti meglio e se con un cambio di modulo potresti giocare anche da seconda punta o da trequartista dietro le due punte, per quelle che sono le tue qualità. Ma guarda, io posso fare sia l'esterno d'attacco sia il trequartista, qualsiasi ruolo che mi mette il mister io lo faccio, non ho assolutamente problemi. Sì, la mia caratteristica è quella di rientrare sul destro, quindi magari mi trovo molto meglio sull'esterno a sinistro. Però l'anno scorso giocavamo comunque a due trequartisti, quindi facevo anche il trequartista, ma non ho assolutamente problemi. Ti chiedo un'ultima cosa, che effetto ti ha fatto vincere con quella cornice di pubblico, perché 600 persone in trasferta in Serie D e anche in Serie C, devo dire, e forse anche in Serie B non si vedono spesso. Ecco, da un punto di vista emotivo, che cosa può darvi anche per la fine del giorno di andata? Guarda, io l'ho detto domenica, i nostri tifosi sono stati speciali. Venire in 600-700 da Baglia San Salvatore, con quel freddo, con l'acqua, sono stati veramente il dodicesimo uomo in campo. Per noi sono fondamentali ogni domenica. Un'ultima cosa, non hai esultato dopo il gol, ti chiedo se hai una dedica particolare per questa rete. Sì, non ho esultato per rispetto, anche se a fine partita mi sono preso un po' di insulti da alcuni tifosi, però questo è il calcio, ci può stare. La dedica è per mia mamma, che sempre mi sta guardando da lassù, e il gol è dedicato a lei.